Harry, il primo aprile esce la parodia del suo Sintitolera a spare uso vero risparmiaci il principe trema. Il principe Harry trema, il primo aprile nelle librerie inglesi uscirà il libro parodia, edito da Abacus, della sua autobiografia. Sintitolera a spare uso vero risparmiaci. Il romanzo è stato scritto da Bruno Vincent che ha voluto riscrivere in modo molto pungente il memoir di Harry. Lo scrittore ha spiegato, per ottenere quella privacy da lui tanto desiderata. Harry ha scritto un libro raccontando proprio tutto, pure del suo pene congelato. Bruno Vincent ha deciso di scrivere la parodia di Spare perché, a sua detta, nel romanzo ci sono tantissimi spunti divertenti da cui si possono trarre altrettante storie. Spare usa anche un sottotitolo ovvero Arrodi, invece di Parodi, anche questa una presa in giro al nome completo di Harry che sarebbe Arrod. Spesso usato dal principe William. In Inghilterra, ma non solo, Harry e Meghan hanno perso molti consensi dopo il documentario Netflix e il libro autobiografico, I Sudditi. Infatti, pensano che siano stati poco eleganti esprimendo alcuni concetti e raccontando alcune storie molto private della famiglia reale. Harry e Meghan sono al centro del gossip anche perché non hanno ancora accettato formalmente l'invito all'incoronazione di Re Carlo Ii che si terrà il prossimo 6 maggio. Nel caso in cui accettassero, i duchi di Sussex incontrerebbero nuovamente tutta la famiglia reale. Nasa cu rachetta, s'o admire nave spaziale de pe Andromeda, asta-i celul, il execuzi ca pe Maria Antoinetta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, dumele darte printre dalea culte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le oprescă, nu s'atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafie aparat.